Buongiorno a tutti, io sono Arianna e vi do il benvenuto nel nostro showroom situato sul lago di Garda. Oggi sono qui per presentarvi un modello chiamato Chianti, che come si può facilmente intuire nasce dall'esigenza di ampliare una cantina situata appunto nella regione del Chianti. Infatti ci tengo a ricordare che la nostra chietra è orgogliosamente ricostruita e questo ci permette di ottenere il fascino della vera muratura in chietra ma garantendo delle performance tecniche che stanno al passo con l'architettura moderna e garantiscono anche risparmio energetico. Così come tutti i modelli della nostra gamma può essere posato a secco oppure fugato. Oggi abbiamo deciso di mostrarlo in versione a secco plus e ci tengo a sottolineare il fatto che è stato utilizzato un colorante, quindi degli ossidi colorati che vanno a dare più profondità alla muratura. Inoltre gli elementi di cui è composto questo modello hanno una dimensione che varia da 50 fino a 800 cm quadrati e quindi permette a tutte e tre le tipologie delle nostre geofit di abbinarsi perfettamente a quella che è la muratura. Quindi possiamo trovare le geofit small, big ma anche le sasso. Inoltre questo modello è molto consigliato anche accostato al modello dei grandi cantonali antico e appenninico. Oggi vi ho presentato il modello Chianti, nei prossimi giorni troverete altri modelli sui nostri social. Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio, alla prossima! Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio, alla prossima! Spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio, alla prossima!